allora siamo arrivati alla seconda puntata e quindi vi faccio vedere come è cresciuta la nostra mattonella ho lavorato in pratica tre volte la nostra sfumatura di colori che va dal bianco due toni di grigio un grigio antracite poi si ricomincia e poi per ultimo fatto come vedete due giri di ventaglietti in nero che mi serviranno poi da rifinitura come vi ho detto volevo farvi vedere come si pulisce dietro la mattonella quindi vanno nascosti tutti i fili che si formano per cambiare colore è indispensabile dovete procurarvi un ago da lana senza punta che è molto più facile da usare vi faccio vedere come togliere pulire tutte queste parti che restano questi filetti ora io un po li avevo già tolti già chiusi comunque vi mostro come come viene un lavoro pulito sempre se riesco ad infilare l'ago ecco qui pratica tornate indietro cercando di tornare indietro e comunque filare dentro la lana il più possibile rispettando il colore ecco una volta fatto questo si taglia il filo è un lavoro un po noioso ma vi vi da diciamo una situazione pulita che è indispensabile perché per cambiare i colori non c'è altro modo comunque si vedrebbero gli scalini con i fili che passano da un giro all'altro ecco come vedete ho finito certo avevo già sistemato un po la questione armatevi di pazienza e togliete tutti questi filetti quando avete finito ecco allora abbiamo quindi due mattonelle che saranno il davanti e il dietro e che in pratica sono la parte visibile la parte bella della borsa la prossima puntata ovviamente vi farò vedere anche come foderarla ho pensato anziché alla rete da giardino che utilizzo quasi sempre visto che siamo in in inverno e che forse ci risparmia anche la antipatica operazione di foderare lo facciamo col filtro col filtro cartonato quindi quello un pochettino rigido che comunque si trova anche dai cinesi adesso una volta che avete fatto le due mattonelle che sono agli avanti la parte frontale e il retro della borsa vi faccio vedere quello che dovete fare è creare una fascia così sto finendo di lavorare questa fascia sono sei giri diciamo che ne farò forse sette per arrivare alla larghezza che mi piace ovviamente le misure dipendono molto dal vostro gusto e che poi applicheremo così che saranno i fianchi e il fondo della nostra borsa la prossima puntata vi farò vedere come unire queste parti e anche rifinire un po in maniera che risulti quasi un cordoncino non 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 non